Ci sono delle grandi novità, ci si riunisce in questi meeting per vedere quello che di nuovo hanno da dirci i diversi specialisti che si occupano di materie attigue, contingenti. Oggi abbiamo parlato, in questi due giorni si parla di sindrome respiratorie, che sono quelle che interessano le vie respiratorie, dallo torino al pediatra, all'allergologo, al pneumologo, al gastroenterologo, questo è importante per avere una visione unitaria del problema. Pensiamo per esempio anche all'odontostomatologia, a questi specialisti che iniziano proprio dalla bocca, perché la respirazione in qualche modo può essere influenzata anche da quello, pensiamo alle allergie, io sono allergologo, sappiamo quanto sono diffuse in questo momento e quanto su tutti i distretti dell'albero respiratorio queste allergie possono incidere positivamente e in questo caso negativamente.